Questa mattina la sua prima presenza all'interno del Consiglio Comunale di Napoli. Quale sarà l'apporto che vorrà dare, soprattutto per le minoranze? Molto piace quello lavorare, tutto se... Scusa. Sì. Quale è l'apporto che vorrà dare per le minoranze? Un bambino è tutto andare in scuola, perché non andare in scuola è andare un'altra cosa, fumare qualcosa, non va bene, nero andare. L'importante è tutto andare in scuola, l'italiano è anche qualcosa in scuola andare. Quindi questo sarà l'apporto maggiore, quello per l'infanzia? Eh? Anche il bambino come in scuola è piccolo, anche mamma, papà lavorare, stendere tutti, mamma, papà lavorare, andare in scuola, in scuola piccolo. Io pensavo, no, una persona aspettare casa, vedere il bambino in casa.